Finalmente l'ho fatto! Ho registrato il mio corso sull'essiccazione. In realtà ne ho registrati due, base e avanzato. Se sei un appassionato e vuoi sapere cosa fare oltre ai pomodori secchi e ai funghi secchi, o magari il tuo essiccatore è sempre spento, riaccendilo con il mio corso base. Oppure se sei un essiccatore seriale e il tuo essiccatore è sempre acceso e vuoi scoprire le sue potenzialità estreme, ti dico solo tre dei circa 20 argomenti del corso. Canditura, soffiatura, dry wet dry. Ti aspetto al mio corso avanzato. Troverai tutte le informazioni sul mio sito www.chefdalicandro.it nella sezione corsi. Ti sei ricordato che guarda in camera? Non fa come al solito. Non fa come al solito. Grazie a tutti.